Ragazzi bentornati su Prophecy Tech by Next Hardware per chi non dovesse ancora conoscermi perché ho letto un po' dai commenti dei video precedenti che ancora alcuni di voi non mi conoscono Beh, permettetemi di introdurmi di nuovo io sono Elliot e oggi parliamo di periferiche Clare Master ci ha inviato giusto un paio di periferiche recentemente io in questi giorni ho avuto modo di provarli un po' e le periferiche in questione sono più precisamente partiamo dalla tastiera ovvero la SK6E31 partiamo dal fatto che io non ho mai avuto prima d'ora una tastiera meccanica diciamo che vengo dal mondo delle meccaniche e la tastiera che possedevo prima di questa era la Master Keys Lite sempre di Queller Master Beh, come detto prima questa è la SK6E31 la versione Tankiless del trio SK dovete sapere che questa serie comprende almeno per ora modelli con solo Cherry MX Red Low Profile che sono sostanzialmente una iterazione delle normali Cherry MX Red ma stavolta a basso profilo ovvero più sottili del 35% e questo ovviamente comporta una riduzione della corsa che scende dai 4 mm ai 3,2 mm e il punto di rotazione si riduce altrettanto fino a 1,2 mm contro i 2 mm delle Cherry MX Red normali questi switch sono reattivi? Hell yeah se lo sono! e ovviamente questa non si può considerare una tastiera gaming senza i led RGB potete personalizzare ogni singolo led e gli effetti sono veramente veramente tanti il mio preferito è il Water Ripple che crea questo bellissimo effetto che simula le gocce d'acqua che cadono per quanto riguarda la rumorosità beh sono Cherry MX Rosse quindi sono super silenziose eccovi una dimostrazione per certe persone i tasti forse possono essere un pochino troppo vicini questo può dare fastidio soprattutto quando si scrive perché potreste rischiare di premere erroneamente altri pulsanti io non ho avuto questo problema però era una nota da tenere in considerazione ecco parliamo ora del design che è una caratteristica che mi interessa particolarmente in questi tipi di prodotti specie se è un design minimal e simmetrico i keycaps sono sottili piacevoli da vedere tra l'altro presentano delle concavità nei tasti alfanumerici il top è realizzato in alluminio spazzolato che riflettendo la luce dei led sembra che va di conseguenza a amplificare questi effetti di luce la parte inferiore è in plastica una plastica veramente molto buona e forse pecca di una cosa che ad alcuni può tornare davvero utile sto parlando dei rialzi che nella serie SK manca se consideriamo poi il prezzo che si aggira attorno ai 120-140 euro beh non dovrebbe essere un optional nella confezione troviamo una sacca molto bella una sacca nera in velluto in cui possiamo riporre la tastiera per questione di portabilità ci sono tastiere ben più sottili di questa però mi trovo molto bene e non vedo il perché io debba preferire altre tastiere a questa con delle combinazioni di tasti possiamo cambiare la modalità di illuminazione la velocità di certi effetti e anche l'intensità con i tasti direzionali ah una cosa che non vi ho detto è che è una tastiera bluetooth bello vero? no cioè yes but actually no voglio dire che è possibile accoppiare fino a tre dispositivi è incredibile adesso questo è bello lo switch tra i dispositivi avviene semplicemente premendo il tasto function con il logo Cooler Master e uno tra i tasti bluetooth a seconda dell'ispositivo a cui l'avete accoppiata nulla di più semplice vero? la batteria detta di Cooler Master dovrebbe durare all'incirca 5 mesi e tanto lo so non ho ancora non ho provato la tastiera per 5 mesi quindi non vi so dire se effettivamente dura 5 mesi o meno mentre con i led accesi dovreste riuscire a fare all'incirca 12-13 ore dipende ovviamente sempre dalla luminosità dei led a bassa luminosità sono riuscito a fare circa 12 ore mentre con la luminosità al massimo sono riuscito a fare circa 8-9 ore i tasti multimediali sono posizionati in alto a destra e sempre qui trovate il tasto blocco windows il tasto per registrare la retroiluminazione led il tasto per registrare le macro può tornare molto comodo se con la tastiera ci lavorate devo dirlo però è tuttavia non è molto intuitivo registrare le macro e neanche col software software in cui possiamo configurare praticamente tutto anche cambiare settaggi di quando si trova in modalità wireless e ovviamente configurare l'illuminazione con i vari effetti la MM711 è sicuramente un mouse interessante una caratteristica evidente della serie MM è questa superficie dai fori che riprendono il logo di Cooler Master si tratta di un mouse molto leggero il peso è inferiore ai 60 grammi buona la qualità dei materiali una plastica opaca fatta veramente bene c'è anche la variante realizzata in plastica lucida e con altre colorazioni io ovviamente ho scelto no perché mi guarda no no non volevo dire Roma cioè su via ragazzi è ormai è un meme morto ho scelto la colorazione nera opaca il cavo usb è rivestito in tessuto i mouse fit sono in ptfe questo ragazzi è il modello rgb e possiamo cambiare i colori sia direttamente dal mouse con una combinazione di tasti sia attraverso il software che ci permette anche di rimappare alcuni tasti e gestire ovviamente la sensibilità ottimo il sensore molto preciso si tratta di un sensore pixart da 1600 dpi di switch omron capaci di fare più di 20 milioni di click vedendo i fori sul mouse una domanda sorge spontanea però se dovessi per caso rovesciare l'acqua sulla scrivania e per sbaglio finisse anche sul mouse beh a detta di cooler master la mm711 è capace di resistere agli schizzi d'acqua e alla polvere grazie a un rivestimento speciale che protegge il pcb da questi incidenti però ragazzi state comunque attenti perché non si sa mai queste ragazzi sono le cuffie migliori che io abbia mai avuto le MH650 hanno un buon design e anche se la qualità del materiale non gli conferisce un look premium soddisfano pienamente i miei gusti estetici anche perché non vado tanto matto per le tamarrate la plastica utilizzata per l'archetto è super flessibile i cuscinetti sono realizzati in tessuto traspirante l'imbottitura non è dei più morbidi però comunque ci farete il callo man mano che le usate anche perché non fanno tanta pressione sulla testa queste cuffie sono rgb e sono alimentate da un cavo usb rivestito anch'esso in tessuto nella confezione ci viene fornito anche un piccolo d'angolo usb per utilizzarle anche con il telefono oppure qualsiasi altro dispositivo che fa uso del type c e di nuovo nella confezione troviamo una sacca nera in velluto su serio mi piace la strada che sta prendendo Cooler Master ultimamente con il packaging e con il design dei suoi prodotti complementi Cooler Master le MH650 montano al loro interno due driver da 50mm e la qualità audio a parer mio è perfetta anche out of the box infatti non ho avuto bisogno di effettuare nessuna modifica dal software il profilo 7.1... beh... dai possiamo anche saltare questa parte a me non piace tanto e forse ad alcuni di voi piacerà... non lo so... sono gusti sotto le Ear Cups troviamo alcuni pulsanti che possono tornare molto utili il tasto per l'accensione e lo spegnimento dei led rgb il tasto per attivare o disattivare il profilo 7.1 virtuale nella parte sinistra invece troviamo il tasto per mutare il microfono più in alto invece troviamo la ghiera per il volume più in basso troviamo questo ingresso jack da 3,5 mm per il microfono il microfono che devo dire... oh mio dio... è forse uno dei migliori microfoni presenti in circolazione cioè almeno forse il microfono forse è come viene gestito l'audio in entrata... non lo so però l'audio in entrata è un qualcosa di spaziale eccovi una dimostrazione ok ragazzi questo è un breve test per dimostrarvi com'è la qualità del microfono delle MH650 è un sound che definirei pulito forse l'unica cosa è che quando si dicono ad esempio parole con all'interno delle P o delle S se le diciamo con il microfono particolarmente vicino alla bocca così finiamo per far esplodere le orecchie ecco appunto a chi ci sta ascoltando questa è l'unica nota da tenere in considerazione per questo microfono al contrario delle XPG Precog che ho recensito nel mio ultimo video non è presente la ENC ovvero la Environment Noise Cancelling però a me va bene così credo che comunque non sia un game changer considerando anche il prezzo di circa 100€ sarebbero da acquistare come minimo 3 volte perché davvero ragazzi... nulla da dire per questo video direi che è tutto fatemi sapere ciò che ne pensate voi giù nei commenti e eventualmente lascerò il link per i siti dove acquistare queste periferiche noi ci vediamo alla prossima Ciao